Buongiorno da Sicilia 24, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina martedì 17 maggio, dunque andiamo a scoprire i titoli più importanti e gli argomenti più importanti di oggi, direi di partire subito cominciando con il quotidiano La Sicilia, vediamo cosa ci propone in prima pagina, in primo piano c'è sempre la questione guerra in Ucraina, meno PIL per tutti, titola La Sicilia, andiamo nel dettaglio, Europa divisa sulle sanzioni contro Putin, l'Ungheria si oppone allo stop alle forniture di petrolio, ma tentennano tutti senza gas russo, addio al 2,5% di crescita e più 3% di tasso di inflazione, questa la parte dedicata appunto alla guerra in Ucraina. In taglio alto ci sono invece le parole dell'assessore Razza che dice Musumeci non è contro i partiti regionali, si perde flertando con i nemici, queste le parole di Razza. Andiamo in taglio laterale, andiamo di spalla, si parla di lotta al Covid, vedete mascherine a scuola, la Lega dice basta, Speranza invece dice la scelta tocca agli scienziati e quindi vedremo come andrà a finire e poi il caldo torrido di questo periodo, un anticipo di estate che praticamente è già arrivata, una settimana ancora bollente, prossimo weekend con punte di 35 gradi, dunque è veramente arrivata l'estate, poi si parla anche di trasporti con l'AST, il piano di rientro di lacrime e sangue in attesa di 120 autobus e di nuovi dirigenti, scrive il quotidiano La Sicilia. In basso invece si parla di spettacolo, a Siracusa torna il rito della tragedia, al via oggi con Agamendone per la regia di Davide Livermore. Nell'inserto all'interno del giornale le interviste ai registi e agli attori degli spettacoli e sempre di spettacolo si parla ma in questo caso di omaggio a un grande artista come Franco Battiato, un anno dopo tra omaggi, parole e tanta musica, è l'anniversario, il primo anniversario della scomparsa del grande maestro Franco Battiato. Andiamo invece in taglio alto con il consueto giro delle città partendo da Catania, ancora Vandali sulla Romantica e poi la zona industriale è un'incognita sull'appalto, mentre a Caltagirone per la bella e celebre scalinata in arrivo 550 mila euro e infine il turismo di Taormina si riprende grazie anche alla fiction. Questi dunque che abbiamo visto i temi in prima pagina del quotidiano La Sicilia. Adesso andiamo a vedere invece cosa ci propone il giornale di Sicilia, questo il titolo di apertura è la regione dei portaborse. La protesta del presidente dell'Ars Miciche per stabilizzarne una decina fra i più anziani è stata modificata con un emendamento del PD, al posto fisso potranno aspirare tutti. Titola in questo caso il giornale di Sicilia che poi vedete si sofferma anche sul Palermo impegnato oggi a Chiavari, Baldini dice andiamo fino in fondo, è il playoff di Serie C, il secondo turno playoff di Serie C con il Palermo di scena contro Lentella, poi il ritorno sarà invece al Renzo Barbera, dunque speriamo che la squadra rosa-nero possa riuscire nella grande impresa. Questione ucraina, Azovsal c'è l'intesa per evacuare i feriti, l'ira di Putin intanto sulla Nato e poi per quanto riguarda le ferrovie sono pronti 20 miliardi di investimento in Sicilia, è stato presentato il piano industriale. Si parla anche di cronaca, intanto con i migranti a Lampedusa, arrivi senza sosta, un migliaio in due giorni dunque proseguono gli sbarchi e poi l'incidente, il tragico incidente di Corleone, un supersite racconta si guidava il 16enne. Di questa notizia abbiamo parlato tanto nella giornata di ieri, questo ragazzo, la sua passione per le auto, ma aveva 16 anni e quindi era anche senza patente, purtroppo la velocità è stata la causa di questo grave incidente che ha portato alla morte di due giovanissimi. Torniamo intanto sul giornale di Sicilia, si parla anche della corsa alle elezioni al Palermo, tra la Galla e Miceli sfide pure sui rifiuti e turismo, insomma tra regione e comunali di certo non mancheranno le notizie, si prevedono fuoco e fiamme in questo caso e già ieri abbiamo avuto un assaggio con le parole social prima di Fava e poi di Musumeci che ha replicato, dunque si preannunciano delle elezioni roventi. Andiamo adesso sull'edizione palermitana del quotidiano la Repubblica, vediamo i titoli in prima pagina, ecco qua si parla proprio di questo, si parla proprio dell'acceso, botte e risposta tra Fava e Musumeci, la campagna si accende sugli impresentabili. Lo scontro tra il governatore Musumeci e il presidente dell'antimafia Fava sul ruolo da mediatore di Dell'Utri, Miceli apre agli inceneritori, poi corregge il tiro, intanto la galla, il candidato sindaco a Palermo per il centrodestra dice vado alle commemorazioni per Falcone soltanto se invitato, dunque certamente cominciano le polemiche, intanto un tema sicuramente scottante che riguarda molto l'Italia ma più nello specifico il sud e la Sicilia, meccanici, agricoltori, estetiste in nero, un lavoratore su cinque e questo è certamente un dato che ci fa tutt'altro che onore. E poi il Palermo, ovviamente il calcio in primo piano perché oggi si gioca una partita importante, mille tifosi rosa-nero in trasferta, la strada per la B passa da Chiavari, alle 20.30 il match di andata contro Lentella, seguiremo chiaramente anche l'evoluzione di questa partita così importante per le sorti del Palermo. Andiamo adesso sulla prima pagina dell'edizione nazionale del quotidiano La Repubblica in primissimo piano, la guerra in Ucraina, Azovz al ultimo atto, il titolo, andiamo nel dettaglio, i 264 difensori ucraini della ciaieria di Mariupol si consegnano ai nemici molti feriti, Zelensky dice gli eroi ci servono vivi, intanto dietro front di Mosca, nessuna minaccia da Svezia e Finlandia nella NATO, ma Orban blocca l'Unione Europea, no a sanzioni sul petrolio. E intanto le truppe di Kiev riconquistano il confine con la Russia perché proseguono i combattimenti in Ucraina, non si ferma appunto il conflitto nonostante le varie trattative su sanzioni e le altre polemiche. La politica con l'incubo a 5 stelle rischiano il posto 8 onorevoli su 10, scrive il quotidiano La Repubblica. Andiamo avanti, abbiamo ancora tante prime pagine da vedere insieme a voi, ci spostiamo adesso sul Corriere della Sera, anche qui in primo piano la questione ucraina, la guerra, Mariupol, l'ordine di uscire, Zelensky, vogliamo eroi vivi in centinaia fuori dall'acciaieria, il dilemma della Azov. Intanto Europa divisa sulle sanzioni, veto di Orban sul petrolio, Svezia e Finlandia nella NATO, no di Erdogan con Putin che avverte gli Stati Uniti. In taglio alto si parla anche di calcio, nello specifico della Juve, con l'addio di Chiellini che commuove lo Stadium. Ieri l'ultima partita in bianco-nero dello storico difensore che dunque lascia la sua casa, lascia la sua Juve dopo tanti tanti anni e quindi il Corriere della Sera, come abbiamo visto da spazio in prima pagina anche a questa notizia. Andiamo sulla stampa, anche qui si parla di Ucraina, fuori i feriti da Azov, Zelensky dice salveremo tutti e Putin intanto risponderemo alla NATO e attacca gli Stati Uniti, lavorano ad armi biologiche. Dopo la Finlandia anche la Svezia chiede di entrare nell'alleanza, Erdogan però ha detto no. Chiaramente la stampa in taglio centrale dedica una bella foto e un ottimo spazio a Chiellini, capitano mio capitano, intanto la Juve si fa raggiungere in extremis dalla Lazio 2 a 2, ma l'ovazione per l'addio di Chiellini e Di Bala. Ieri lo stadio bianconero più che la partita era sinceramente interessato all'addio alla Juve di questi due campioni. Proseguiamo, andiamo a vedere il giornale che è piuttosto polemico questa mattina con le sanzioni, infatti parla, vedete, di pagliacciata, sanzioni, Bruxelles e Mosca trovano il trucco per pagare il gas, resa europea, nessun accordo sull'embargo al petrolio, tanto Tajani dice basta unanimità e il PIL italiano crolla, scrive il quotidiano il giornale questa mattina e poi la questione Nato con Svezia e Finlandia nella Nato, Putin minaccia ed Erdogan subito chiude. Queste chiaramente sono le notizie più importati che stanno un po' catalizzando l'attenzione dei vari quotidiani, soprattutto questa mattina come stiamo appunto vedendo dalla nostra rassegna stampa. Siamo invece sul quotidiano, la nazione pane e bollette, ecco quanto pagheremo, questi sono chiaramente gli effetti della guerra, infatti scrive la nazione effetto ucraina, fiammata del prezzo del grano, le previsioni sul gas, se verrà a mancare quello russo andremo in recessione, nuove voci sulla salute di Putin, allargamento della Nato, Erdogan fa resistenza mentre si arrendono i soldati assediati nell'acciaieria e dunque si parla chiaramente di conseguenze gravi per tutti da questa crisi che sta avvenendo in Ucraina, quindi vedremo come si evolverà la situazione, ma le premesse sono tutt'altro che confortanti. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano Il Messaggero, anche qui in primo piano l'acciaieria di Mariupol, gli asob fuori dall'acciaieria, scrive Il Quotidiano Romano, il comandante del battaglione obbedisco all'ordine di evacuazione del mio governo. E ancora scorriamo di spalla, si parla sempre di guerra, comunque di questioni legate alla situazione in Ucraina, Svezia nella Nato, Erdogan si oppone e Putin minaccia, mentre ieri si è svolto il vertice Draghi Salvini, accordo sulle armi, ora Conte è isolato, e ancora la mossa di McDonald, vedete che va via dalla Russia dopo 32 anni, dunque anche McDonald sceglie di abbandonare la Russia. E adesso il quotidiano napoletano, il mattino, anche qui in primo piano la guerra in Ucraina, la tregua dell'acciaieria in salvo i soldati feriti, Mariupol via l'evacuazione degli asob dopo 82 giorni di resistenza, Nato è l'ora della Svezia, Putin parla di risposta inevitabile e arriva intanto un nuovo no di Erdogan, questo è il titolo principale, il titolo in primo piano, poi si parla anche di questioni italiane legate sempre all'Ucraina, voto sulla guerra, Salvini sta con Draghi, Conte resta isolato, il leader leghista a colloquio con il Premier, c'è il conflitto, il suo ruolo non si discute, dice Matteo Salvini. Vediamo il quotidiano libero, poi andiamo sui quotidiani sportivi, in questo caso l'attenzione è sullo sciopero dei magistrati, in realtà è stato uno sciopero flop, vedete flop dello sciopero dei tribunali, perfino i magistrati scaricano, i magistrati scrive il quotidiano libero, meno di un togato su due aderisce alla protesta contro la riforma del CSM, pure i PM hanno capito che è tempo di cambiare e poi di spalla la questione Nato, in questo caso con Erdogan e Orban affondano Nato e Unione Europea, scrive il quotidiano libero. Andiamo con lo sport, partiamo dalla gazzetta dello sport che dà ampio spazio in questo caso alla Juve, vedete Boom, Juve Boom, Pogba, Perisic e Di Maria, dunque i bianconeri puntano a tre colpi a costo zero, niente linea verde bocciati, un grande ex e due ultra trentenni, dunque la Juve vuole tornare a vincere subito e poi l'addio di Chiellini e Di Bala, la notte degli addi, le lacrime di Di Bala, la festa di Chiellini e la Lazio con il 2-2 finale va in Europa League, in taglio alto si parla invece della corsa Scudetto, treno Scudetto per il Milan, Bomber, Speranza per l'Inter che si aggrappa a Scamacca, vedete Inzaghi punta su Scamacca nella speranza che possa fermare i rossoneri. Andiamo su tutto sport, chiaramente ampio spazio alla Juve in questo caso, sia per quanto riguarda il mercato, Pogba e la Juve sono più vicini che per quanto riguarda la partita di ieri con gli addi in bianconero di Chiellini e Di Bala, Vlaovic si brividi Chiello, questo è il riassunto più o meno del match di campionato giocato ieri contro la Lazio, poi si parla anche di Scudetto, lo Scudetto di Milano, una festa da salvare, rischio ingorgo e tensioni domenica alle 18 c'è pure Monza-Brescia. Pronti due cerimoniali a Reggio Emilio in caso di trionfo Milano e a San Siro, se sarà l'Inter, i timori per l'incrocio delle due tifoserie. E chiudiamo questa rassegna con il Corriere dello Sport che in primo piano parla di ultima Juve, riferito ovviamente agli addi, come detto, di Di Bala e Chiellini, pari nella notte degli addi di Chiellini e Di Bala, lacrime allo Stadium, poi ovviamente si parla anche della partita, Vlaovic e Morata non bastano, di Milinkovic al 95esimo il gol che porta Sarri in Europa League, scrive il quotidiano romano che in taglio alto poi ha delle dichiarazioni di Marotta, ho convinto Inzaghi quando era dalotito ed ecco Marotta dice, ecco come ho portato Simone Inzaghi all'Inter. Questi dunque i titoli principali di oggi, possiamo quindi chiudere questa nostra rassegna stampo di Erna, ovviamente ci ritroveremo più tardi con tutte le edizioni, le nostre edizioni di Spazio Notizia, quindi tutta l'informazione sempre su Sicilia 24 e allora ci vediamo più tardi, vi aspettiamo, a dopo.